Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Udinese TV in apertura, il nazionale con la scomparsa di Iole Santelli, la presidente della regione Calabria che è morta questa notte. La governatrice di Forza Italia era nella sua casa di Cosenza dove è stata trovata senza vita questa mattina dal collaboratore domestico che poi ha avvisato i familiari. Santelli avrebbe compiuto 52 anni a dicembre, era malata di tumore da tempo ma sono ancora da accertare le cause del decesso, pare si sia trattato di un malore. Ogni tentativo dei soccorso è stato inutile. Uno degli ultimi a sentirla telefonicamente era stato il governatore della regione Fedriga che si è detto atterrito, stupito e affranto per la morte della presidente della regione Calabria. Calabria ha sentito condoglianze a tutti i cittadini della regione e ai familiari, ha detto Fedriga sono molto colpito perché l'ho sentita ieri e oggi ho saputo della sua scomparsa. Si unisce ai tanti messaggi di cordoglio anche la ex governatrice Deborah Serracchiani che ha detto era una donna forte e determinata dai modi sempre gentili. La sua scomparsa prematura è una perdita che mi colpisce e addolora, la ricordiamo, per il suo indefesso impegno in politica. E oggi il Consiglio regionale che si è riunito a Trieste ha osservato un minuto di silenzio. Torniamo a parlare della Covid e della sua diffusione all'interno delle scuole. Sono tanti gli istituti scolastici coinvolti dai casi di contagio. Il Ministero dell'Istruzione però ha comunicato che alla data delle 10 di ottobre gli studenti contagiati sono pari allo 0,080%, 5.793 casi di positività. Per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale, 1.020 casi. Questi i dati poi condivisi anche con l'Istituto Superiore della Sanità. Dati abbastanza in linea anche in regione. Abbiamo testato 15.000 ragazzi tra 0 e 18 anni. Ha detto oggi il vice governatore con Delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in question time al Consiglio regionale. E ha detto che abbiamo testato 15.000 ragazzi tra 0 e 18 anni. Da cui è scaturito che le percentuali di contagio in ambito scolastico sono solo il 10%, con una percentuale maggiore nella fascia da 10 a 18, che presenta una maggiore incidenza. nel giro di una settimana, massimo 10 giorni, ai test acquistati insieme alla regione Veneto si aggiungeranno altri 40.000 test veloci. Così ha risposto Riccardi che ha criticato ricostruzioni che non riportano il clima reale che si respira nella scuola. Traspare dai dati che invece si stanno registrando molti focolai familiari che raggiungono il 50% dei contagi, quindi in situazioni extrascolastiche. Ovviamente si cerca di scongiurare nuove chiusure degli istituti scolastici, ma anche gestire gli arrivi, gli ingressi sfalsati e tutto il protocollo di sicurezza non è facile come hanno denunciato i presidi a livello nazionale. Vediamo. Rendere strutturale e obbligatorio l'ingresso a radi scaglionati nelle scuole medie e superiori. Far entrare, per esempio, i ragazzi in classe tra le 8 e le 10, per evitare mezzi pubblici strapieni e al tempo stesso scongiurare l'ipotesi di dover chiudere le scuole e tornare alla didattica a distanza. È un'ipotesi su cui si sta ragionando, ma che è stata bocciata dal sindacato dei presidi italiani. Non si può esagerare chiedendo alle scuole di iniziare le lezioni troppo tardi. Vi sono esigenze che vanno contemperate. È ragionevole scaglionare gli ingressi nel lasso di un'ora, per esempio prevedendo che alcune classi entrino alle 7 e 45 e altre alle 8 e 45. Oltre diventa problematico, dice il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli. Per Maddalena Gissi, che guida la CISL a scuola, posticipare l'orario di apertura delle scuole superiori potrebbe essere possibile, ma in alcune realtà sarebbe molto difficile riuscire a coprire le cattedre. E del resto, ancora oggi o un mese dall'inizio delle scuole, mancano insegnanti in alcuni istituti. La ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, continua a difendere con forza l'idea che le scuole devono rimanere aperte. Se l'idea per qualcuno è chiuderle e lasciare tutti a casa, la risposta è no, risponde perentoria alle regioni. E continua la distribuzione delle mascherine nelle scuole del territorio, oltre che ovviamente ai test rapidi, se ne occupa anche l'azienda Chiros. Vediamo. La Chiros Industrie di Fossalta di Portogruaro sbarca anche nelle scuole del territorio. Alcune delle mascherine chirurgiche prodotte dall'azienda di Villanova Sant'Antonio sono state distribuite nelle scuole della vicina Pra Maggiore. Fino a pochi giorni fa venivano distribuite soltanto per mezzo del commissariato per l'emergenza di protezione civile nelle scuole di Piemonte e Lombardia. Per aprire questo ramo produttivo Chiros ha trovato il sostegno di Confindustria Alto Adriatico. Ciro Astarita, il titolare dell'azienda, procede con nuove assunzioni e di recente ha vinto grazie a bandi europei commesse importanti per fornire di mascherine anche la Spagna e la Germania. Nel contempo prosegue l'opera di fornitura delle mascherine nelle aziende italiane. Il prossimo passo, prefigurato sempre da Astarita, potrebbe essere l'avvio della produzione notturna. E dopo il record di contagi sia in Italia che in regione sono tante le dichiarazioni quest'oggi per cercare di capire come gestire questa seconda ondata. Ha parlato il ministro Speranza dicendo che in Italia ci sono numeri diversi rispetto ad altri paesi non può pensare di essere fuori. Il nostro paese da questa dinamica di crescita dei contagi del tutto evidente e innegabile ha detto a Latina ma i numeri sono diversi. Dice Speranza, la Gran Bretagna è stata intorno ai 20.000 casi coronavirus, la Francia ha superato i 25.000, l'Olanda che è il paese con un terzo dei nostri abitanti a 7.400 casi anche in Germania. Ci sono numeri che non abbiamo visto neanche a marzo. Il virus in Europa si sta diffondendo in modo molto veloce. Tuttavia, proseguito in questo contesto, abbiamo un piccolo vantaggio sugli altri paesi. I nostri numeri sono ancora inferiori e questo ci può consentire di mettere in campo azioni che ci consentano di non disperdere il vantaggio. Il Vice Ministro della Salute, Sileri invece, a una trasmissione radiofonica ha detto non vedo probabile un rischio di lockdown nazionale, è chiaro che serve lo sforzo di tutti, vedo più probabili lockdown circoscritti qualora ci fossero focolai che non possono essere controllati. E infine il Governatore Fedriga è tornato anche sul record di contagi della nostra regione di ieri e ha detto in questo momento non voglio ipotizzare niente e poi dobbiamo vedere in più settimane l'evolversi della pandemia, quindi è chiaro che prendere scelte sull'onda dell'emotività è sbagliato. Bisogna avere maggiore attenzione ma dobbiamo anche tenere in piedi un sistema economico lavorativo che non può essere buttato alle ortiche. Nel frattempo è il record di contagi in Europa e nel mondo con numeri sempre in rialzo. La Germania corre ai ripari con i 6.638 positivi delle ultime 24 ore, limitazioni anche in Francia con norme che vedono coprifuoco alle 21 a Parigi così come in diverse altre città. Ma un lockdown, dice Macron, sarebbe sproporzionato. Allora ascoltiamo quali sono proprio le misure scelte dal governo francese per limitare la nuova ondata. Grazie a tutti. Ma significa che non ne sorti più al restaurant, che non ne sorti più al restaurant dopo 21 ore, che non ne ira più a dei miei, che non ne ira più a fare la festa, perché c'è lì che è lì che siostro la contaminazione più facilmente e che siostro il fatto. E con la cronaca ritorniamo in regione dove i carabinieri di Tolmezzo hanno diventato individero. I responsabili di alcune truffe ai danni degli anziani, quattro persone denunciate, tre italiani e uno straniero. Le indagini sono scatolite da una denuncia per truffa asporta da una novantenne tolmezina che nel 2019 era stata contattata telefonicamente. La truffa è sempre quella classica, ovvero il coinvolgimento del figlio in un incidente stradale, la richiesta di denaro per il rilascio del parente. Dopo essersi accordati sull'importo d'avversario, attesa l'indisponibilità della signora della somma richiesta, si è presentato a casa un terzo soggetto incaricato del ritiro del contante di circa 1.500 euro. L'attività poi ha identificato il fatto che il gruppo agiva sempre con lo stesso modus operandi, cercando numeri di telefono intestati a persone anziane, utenze molto vecchie e i numeri telefonici permettono di mantenere la linea collegata anche se uno dei due interlocutori riaggancia il telefono. In questa maniera i truffatori, dopo aver contattato le ignare vittime, mantenevano la linea aperta in modo tale che se l'anziano successivamente avesse tentato di contattare il parente o l'112 rispondevano nuovamente loro, rendendo ancora più convincente la truffa. Capitava quindi che il terzo soggetto si presentasse a caso, ritirasse il denaro e sparisse. In base agli elementi raccolti, i quattro sono stati denunciati per truffa in concorso, sostituzione di persona e usurpazione di titoli. A Gorizia invece la Guardia di Finanza in due distinte operazioni ha arrestato due passer e rintracciato 28 migranti clandestini. In una prima operazione è fermato un minivan con targa polacca. Il conducente, un ucraino, ha mostrato evidenti segni di nervosismo e agitazione, facendo insospettire i militari. Gli occupanti erano sprovvisti di documenti, è stato arrestato il conducente per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e i nove passeggeri, bengalesi e pakistani, sono stati segnalati all'autorità locale. Due giorni dopo invece le fiamme gialle e isontine hanno intercettato un altro trasporto di migranti clandestini. Questa volta il passero un bulgaro utilizzava un autocarro noleggiato nella vicina Slovenia e all'interno, stipati in spregio alle minime condizioni di sicurezza e igieniche, c'erano 19 pakistani senza documenti. Tutti hanno raccontato la stessa storia. I soggetti, nell'arco di un viaggio durato oltre un mese, hanno attraversato il Medio Oriente, sono passati per la Turchia, hanno camminato per la rotta balcanica fino alla Slovenia, nascosti all'interno di veicoli furgonati. Ingenti le cifre richieste. I passero sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria presso il carcere di Gorizia. 28 migranti clandestini invece, dopo identificazione e test anti-Covid, sono emerse delle possibilità per la riammissione in Slovenia attraverso il valico di Fernetti in base all'accordo tra Roma e Ljubljana. Questo per 15 dei 28. E ora parliamo del maltempo. Oggi è una giornata molto piovosa su tutta la regione, con neve anche in montagna e soprattutto allagamenti e mareggiate sul litorale. Questa mattina per la seconda volta è entrato in funzione il Mose a Venezia per fermare l'ingresso in città di un'alta marea eccezionale con vento di scirocco. È previsto che il piccolo raggiunga il metro e 30 centimetri. Il sistema di dighe è stato attivato durante un episodio di acqualta per la seconda volta dal 3 di ottobre. Le paratoie permettono di sbarrare il passaggio tra mare e laguna le tre buche di porto, fermando così la crescita della marea in città. Sospesa anche da parte della Capitaneria la navigazione e così è stato. Piazza San Marco è rimasta quindi oggi all'asciutto, mentre invece qui siamo a Chioggia con le immagini. Acqua alta a Chioggia ma anche a Caorle, lo vedete da queste immagini che ci sono arrivate grazie al nostro rosario padovano, anche a Caorle il porto dove vengono attraccate le varie imbarcazioni registra allagamenti proprio per l'acqua alta che era prevista dall'allerta meteo degli scorsi giorni quindi al porto di Caorle nel vicino Veneto. Per quel che riguarda invece la regione Friuli Venezia Giulia la situazione in questo momento è sotto controllo, in montagna ci sono già le prime nevicate soprattutto sulle cime del Tarvisiano e del Canin, mentre invece la situazione è più tranquilla verso Piancavallo e Sappada, comunque su Lussari e sul Canin a Stella Nevea sta nevicando mentre invece nella parte occidentale della regione, soprattutto in montagna, al momento non ci sono nevicate. Le mareggiate a Lignano per adesso e Grado non hanno creato grossi problemi lo vediamo dalle immagini, la situazione è tutto sommato tranquilla nel Lignanese. Andiamo adesso a Bibione, quindi molto vicine perché la tassa di soggiorno come in altre località anche del Friuli Venezia Giulia è risultata dimezzata a causa purtroppo dell'emergenza Covid. In entrata ci sono solo 2 milioni di euro e le bilancio comunale. Adesso vacilla. Tassa di soggiorno dimezzata, si registra un calo del 50% a Bibione rispetto al 2019. Sono stati raccolti appena 2 milioni di euro a fronte dei quattro introitati l'anno precedente. E' questa la conseguenza peggiore della crisi turistica causata dal mancato arrivo degli ospiti italiani e stranieri dovuta al Covid-19 e ai ritardi sui protocolli infine adottati. Le manifestazioni di Natale che si organizzano investendo in parte le imposte legate alle presenze turistiche sono a forte rischio. Certamente per colpa del calo di fatturato, ma soprattutto per l'impennata dei casi positivi di coronavirus in tutta l'Europa. C'è area di ridimensionamento al comune di San Michele e Bibione. Non ci saranno tagli, ma sicuramente variazioni di bilancio, perché il buco alla fine del 2020 potrebbe aumentare addirittura fino a 5 milioni. Queste le previsioni dell'assessore al bilancio Sandro Scodellere. I lavori partiranno in ritardo, ma il sindaco di San Michele al tagliamento Bibione, Pasqualino Quadagnotto, precisa che su questo punto almeno il Covid non c'entri nulla. Infatti si deve riorganizzare il comparto amministrativo per l'immissione a ruolo di sette nuovi assunti. Parliamo ancora di economia e di commercio. Andiamo a Codroipo perché ci sono diverse iniziative in vista per il passaggio del Giro d'Italia. Ce ne parla proprio l'associazione di categoria al microfono di Luciana Idelfonso con qualche novità purtroppo negativa per quel che riguarda la fiera di San Simone. Buongiorno Luciana, a te la linea. Buongiorno Valentina, a te i nostri telespettatori. Ci troviamo a Codroipo. Codroipo che si appresta a vivere il Giro d'Italia che passerà proprio qui domenica mattina per quella che sarà la tappa rivolto piancavallo. La città è pronta ad accogliere la carovana ma soprattutto i turisti e i curiosi che potranno vedere il passaggio del Giro proprio qui anche da Codroipo. Ne parliamo insieme a Roberto. Roberto, come si sta preparando la cittadina al passaggio del Giro? Dunque i commercianti, specialmente chi ha le vetrine con l'abbigliamento, hanno addobbato in occasione del Giro alcuni gadget e alcune cose. I negozi sono aperti, tutti i negozi sono aperti, i ristoranti, i bar e anche, specialmente l'abbigliamento. Siamo entusiasti che passi questo Giro qua in modo che gli avventori che arrivano potranno vedere la città in una maniera diversa. Aspettiamo numerosi, sicuramente che arriveranno numerosi e siamo qua ad accoglierli. Allora, la cittadina di Codroipo, quindi domenica apertura straordinaria di bar, ristoranti, negozi allestiti per l'occasione di un unico colore che è il colore del Giro d'Italia in rosa. Quanto è importante ospitare eventi come questi in un momento così difficile per via della pandemia per il settore del negozi e dell'astrazione? Certamente, ce la mettiamo tutta perché con la crisi che c'è stata dà un momento di respiro agli acquisti che ci saranno in giro. E quindi secondo lei è bene ospitare questa tipologia di eventi? Certamente, è un flash, ma siccome la gente staziona, non è che passa il Giro veloce, ma stazionerà, speriamo che li accogliamo, possino fare il Giro della città. Un primo evento in avvicinamento del Natale, che poi si spera essere il vero momento di respiro per tutti i commercianti e gli esercenti. Ma abbiamo dovuto rinunciare alla Fiera di San Simone, il Comune ha messo a disposizione 50 mila euro che dobbiamo impiegarli per addobare la città a Natale. E anche qua speriamo che la gente arrivi, faremo in modo che sia un'accoglienza bellissima. E allora Codro è poi pronto ad accogliervi in maniera calorosa per tifare per il Giro d'Italia, per i ciclisti, per la sua carovana, ma anche in vista del Natale che sembra lontano ma ormai è più vicino di quello che si pensa, con le luminarie e con i negozi aperti pronti ad accogliervi. Valentina, ringraziamo il nostro ospite e ti restituisco la linea a voi. Grazie, grazie Luciana. Adesso andiamo a vedere i festeggiamenti a Trieste per il corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche che festeggia 30 anni. La cerimonia si è svolta oggi a Trieste nel Palazzo della Regione con il Presidente Massimiliano Fedrighe, il Rettore dell'Università di Trieste Roberto Di Lenarda e la diplomatica Elisabetta Belloni. Un punto di arrivo, ha detto Di Lenarda, ma soprattutto un punto di partenza perché ci auguriamo che sia il presupposto sul quale incrementare l'offerta e magari nel prossimo trentennale, grazie a supporti che in parte sopperiscono la crisi, ci permettono di aumentare la nostra proposta formativa. Secondo Belloni, il ruolo della diplomazia nel mondo odierno è quello di consentire al governo di navigare in uno scenario globale sempre più complesso, tutelando e promuovendo l'interesse nazionale. È fondamentale la formazione, non ci si improvvisa diplomatici se non c'è un bagaglio culturale e una formazione adeguata. E ieri è andato a Licio Damiani, Sergio Gervasutti e Daniela Montagnieri il primo premio giornalistico Isi Benini, città di Udino. Un riconoscimento molto sentito dal mondo della stampa, in particolare da quello enogastronomico, agroalimentare ed economico della regione, perché è stato ideato per dare lustro alla figura di uno dei fondatori del giornalismo specializzato, pioniere della comunicazione della civiltà contadina e del territorio. Uno giornalistico Isi Benini, città di Udino, prima edizione, voleva valorizzare un personaggio che è stato un promotore, uno scout della comunicazione del territorio, dei prodotti agroalimentari e della qualità del territorio, di una friuneità che lui ha lanciato, sentiva nel sangue, anche se era di sangue, anche romagnolo. Questa sera ci sono stati selezionati i lavori importanti che hanno partecipato a questo concorso, uno realizzato da Licio Damiani che ha percorso in modo toccante tutte le battaglie che ha vissuto con Isaia, come lo chiamavano in redazione, come lo chiamavano anche in redazione, nell'epoca che ci hanno lavorato assieme. Abbiamo premiato Sergio Gervasutti, già dietro al Messaggero Veneto, che con Isaia ha combattuto e ha vissuto diverse battaglie. Daniela Patis Montagnieri, giornalista salsilese e anche milanesese nel contempo, che ha scavato un percorso tra le realtà e non gastronomiche agroalimentari che ancora sono presenti a Udine e che c'erano anche all'epoca di Benelli. Prima di tutto questo, Enrico Pettelunghi ci ha raccontato un po' come è cambiato il vinto Friuli, dal vino di Famè ai vini più blasonati. Un premio che sarà ripetuto, probabilmente allargato anche su altri versanti e anche nel mondo della scuola. Ancora attuale oggi per questo premio organizzato da Arga, credo che i premiati abbiano tratteggiato alla figura di un grande giornalista, di una persona che ha affrontato di petto la vita, vivendola fino in fondo con le sue passioni e che ha legato quello che lui ha scritto, la sua professionalità a questa grande comunità che è il Friuli Venezia Giulia, alla sua agricoltura, al vino, ma con grande attenzione anche a quelli che erano i valori umani, che nascono da una comunità agricola come quella del nostro Friuli. Sarebbe bello pensare oggi, con Benini ancora vivo, che magari tante battaglie che forse questa regione ha anche perso, penso quella sul Friulano che abbiamo dovuto subire rinunciando al nome Toccai e immaginare come attraverso proprio la sua forza, la sua passione, la sua attenzione, forse anche queste che sono pilole di identità friulana sarebbero ancora vive e Isi sicuramente sarebbe stato degno testimone pugnace e propumulgatore. Passiamo alla situazione dell'Udinese che deve affrontare domenica il Parma, ma emergenza in Casa Giallo Blu con quattro tesserati positivi al Covid e di cui non sono stati resi noti i nomi. La gara comunque non è in discussione perché i contagiati sono già stati isolati dalla società. Vediamo. Scoppia la bomba Covid in Casa Parma con il club Ducale che ha comunicato ieri il contagio di quattro tesserati di cui tre asintomatici non sono stati comunicati i nomi degli interessati ma è chiaro che sfortunatamente per il Parma. Questa è una notizia che favorisce l'Udinese in vista della gara di domenica ancora di più, quindi l'obiettivo non sarà soltanto fare punti ma anche vincere possibilmente la partita contro un avversario indebolito da causa di forza maggiore. La gara infatti ad oggi si gioca regolarmente con il Parma che ha subito isolato i positivi se la situazione non dovesse precipitare. I Giallo Blu si presenteranno regolarmente ad Udine. Ricordiamo infatti che solo in caso di dieci o più contagi un club può chiedere per una volta il rinvio di un match come accaduto per esempio per Genoa Torino. Negli altri casi si farà riferimento alla norma UEFA secondo la quale una squadra può disputare una partita con almeno 13 giocatori sani e quindi Udinese Parma si giocherà e sarà un match fondamentale come si ripete ormai da giorni. In casa bianconera una gara in cui i friulani dovranno per forza di cose trovare i primi punti ma anche i primi gol in campionato per far esultare un popolo che da troppo tempo non festeggia e proprio l'attacco è finito nel merino dopo le ultime deludenti prestazioni. Magotti ha fiducia nei suoi uomini anche se ovviamente sta pensando a soluzioni alternative al classico 3-5-2 con lasagne o caca. È presto forse per cambiare un canovaccio tattico imparato a memoria ma forse è arrivato il momento per provare comunque qualcosa di diverso e Pussetto ed Eolofeo scalpitano per una maglia da titolare. È tutto per questa edizione come sempre in diretta adesso diamo uno sguardo alle previsioni del tempo prima di salutarci per questa giornata con negli scorsi giorni appunto l'allerta meteo per piogge intense e mareggiato e soprattutto sulla costa. Buona giornata. Amici di Udinese TV bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. L'autunno si farà sentire nelle prossime ore. Ci attendo un giovedì di mal tempo in gran parte d'Italia quindi anche in Friuli Venezia Giulia nuvole e precipitazioni davvero diffuse. Controlliamo più nel dettaglio situazioni tra Udine e Pordenone con cielo nuvoloso, piogge diffuse ma anche guardate temperature bassine sarà una giornata freddina con massime non oltre 14-15 gradi. Situazione del tutto analoga anche tra Gorizia e Trieste sempre con nuvole, precipitazioni e temperature basse tra l'altro anche con un po' di vento sull'Adriatico. Però guardate nei giorni successivi graduale miglioramento. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.